Buongiorno amore, vuoi un pezzo di pandoro? Ma neanche, per adesso in queste feste mi sento un palloncino Comunque, stai facendo il compito delle vacanze? No, devo ancora iniziare Guarda che mancano pochi giorni, lo sai che il 7 gennaio inizia la scuola eh? Sì, lo so, comunque mamma Sì? Ma il 6 gennaio, non viene la Befana? Sì, perché? Beh, io ho scritto una lettera Ah, fammela vedere Ok, ecco qui Cara Befana, quest'anno voglio un iPhone 13 e 1000 euro in contanti Di nuovo, hai chiesto la stessa cosa a Babbo Natale Lo sai che la Befana porta i dolci, di solito? Vabbè, ma non può fare un'eccezione, scusa No, ma perché non chiedi una calza con i dolcetti? Una calza? Ma non hai sempre detto che i dolci fanno male ai denti? E anche al pancino, l'hai sempre detto? Se ne mangi pochi, no Ok, allora facciamo una calza Ah, lo sapevo Bravissima, così quando ti arriverà la calza Faremo vedere ai nostri amici di YouTube cosa ci sarà dentro Puete vedere anche voi la calza di Valentina? Devo sempre fare quello che dici tu Non posso mai prendere quello che dico io Non avevo chiesto tanto Volevo solamente un iPhone 13 Oggi volta, è sempre così, mamma mia Ciao